Buonasera a tutti, grazie di essere presenti così numerosi in questa serata. Ringraziamo innanzitutto Ferdinando Scianna per aver accettato il nostro invito e come sempre Palazzo Ducale per aver condiviso e supportato questa iniziativa. Sono ormai alcuni anni che l'Associazione culturale trentasesimo fotogramma ha avviato e propone una serie di incontri con importanti figure della fotografia, cercando di offrire per quanto possibile un panorama della scena fotografica attraverso il racconto dei suoi protagonisti. In questa prospettiva l'incontro di questa sera ci rende particolarmente felici e orgogliosi e va considerato in modo del tutto particolare. Ciò per due motivi. Il primo naturalmente è dovuto alla presenza di Ferdinando Scianna, la cui carattura non solo come fotografo ma come scrittore intellettuale è nota a tutti in questa sala. Mi asterrò pertanto dal presentare il nostro ospite coi consueti cenni alla biografia e al suo lavoro che sono conosciuti da tutti e do per scontati. Salvo che per un punto che però è fondamentale proprio per l'incontro di questa sera. Ferdinando Scianna infatti era legato a Riccardi e Bresson da un rapporto di reciproca stima e credo di poter dire senza tema di smentita da una relazione di sincera amicizia che iniziata negli anni parigini di Scianna si è protratta nel tempo fino alla scomparsa di Cartier Bresson avvenuta nel 2004. Ho trovato molto rivelatore di questa amicizia e anche divertente il fatto che Ferdinando Scianna era tra l'altro uno dei pochi dai quali a Riccardi e Bresson si lasciasse fotografare senza rischiare il lancio di oggetti o di essere insolentito. È noto infatti che a Riccardi e Bresson non era di carattere facile ed era anzi ben noto per le sue leggendarie collere. Un'altra conferma è data dalle partecipazioni di Scianna alle terrificanti passeggiate e cito testualmente da un suo libro con Riccardi e Bresson e Cudelka, di cui magari poi il nostro ospite ci racconterà qualcosa più avanti. Ma soprattutto, a testimonianza della stima e dell'apprezzamento cui accennavo, vi è il fatto che proprio a Riccardi e Bresson fu lui ad aver voluto l'ingresso di Ferdinando Scianna, quello straordinario gruppo di talenti che è l'agenzia Magnum, della quale entrò a far parte primo e per lungo tempo unico italiano nel 1982, se non sbaglio. E qui giungo al secondo punto che rende veramente particolare questa serata, rappresentato dal tema che ha per oggetto il racconto di Riccardi e Bresson attraverso i suoi libri, fatto da Ferdinando Scianna. Su Riccardi e Bresson, ovviamente avendo a fianco di me Ferdinando Scianna, non dirò nulla, se non il fatto che ha rappresentato e rappresenta per chiunque si interessi di fotografia, a qualunque livello, una figura di riferimento assoluto. Anzi, forse la figura di riferimento, da cui non si può prescindere. È come testimoniato dal fatto che per la sua fotografia è stato coniato l'aggettivo Bressoniano, così che quando si vuole definire un certo genere di fotografia si parla di immagini Bressoniane e tanto è sufficiente a comprendere che cosa si voglia significare. Infine un accenno ai libri, che sarà lo specifico oggetto della Serat. È infatti proprio con Riccardi e Bresson che il genere libro fotografico assurge a un livello e ad una considerazione sconosciuti in precedenza. Tanto da aver indotto Robert Capa, quindi non uno qualunque, a definire immagini e la sovette come la Bibbia dei fotografi. Detto questo, passo senz'altro la parola al nostro ospite che ringrazio ulteriormente per aver accettato il nostro invito. Grazie. Grazie a tutti. Siete troppi. Io già ero ansioso per i fatti miei. Va bene, comunque, vediamo un po'. Sono stato contento di riprendere qui a Genova e ancora di più lo sono, insomma, in questa sede con un pubblico così vasto, così appassionato. Un discorso che è un da un po' di tempo volevo fare, anzi una volta l'ho anche tentato, ma non sono neanche riuscito a concluderlo perché io sono verboso e il tempo che avevo a disposizione non mi aveva consentito di finirlo. Ed è questo un tentativo di racconto che non mi pare che sia stato molto fatto. Cartier-Professore è uno dei fotografi più indagati giustamente della storia della fotografia, però questa prospettiva di analizzarlo attraverso i libri non mi pare che sia stata fatta. Certo, voglio dire, si potrebbe fare, ma non io, insomma, in maniera filologica, erudita, insomma, in cui vengono spiegate le faccende. Non è quello che farò questa sera. Questa sera io farò finta che siamo quattro amici al bar, come diceva la canzone, e io vi parlerò in maniera personale. Ed è quasi una scusa che io vi faccio di fare questo discorso su quello che io considero il maestro dei miei maestri, insomma, e non solo io. Quattro generazioni di fotografi si sono rifatti a Cartier-Bresson come un punto a riferimento il più importante della fotografia mondiale del XX secolo. i libri. I libri perché ci sono alcuni paradossi che riguardano Cartier-Bresson e i libri. Dicevo prima che non è che ne abbia fatti tantissimi, di libri, Cartier-Bresson. Ne ha fatti forse meno di me, lo dico con vergogna, con la differenza che i suoi libri sono stati pubblicati in tutte le lingue dai più grandi editori del mondo e sono stati anche, diciamo, il supporto per straordinarie mostre che sono avvenute nei più importanti musei del mondo, insomma. Quindi non è che si tratta di calcolare l'importanza dei libri di un autore a partire dal numero di quelli che ha fatto, quanto dalla importanza e dall'influenza che hanno avuto nella storia della fotografia e negli altri che hanno seguito le tracce di questo pioniere, di questo rivoluzionario della fotografia moderna. Perché sono, non sono quelli che avrebbero potuto essere, sono tanti, è ben inteso, insomma poi li vedremo. Perché in realtà, qualcuno me l'ha sentito ripetere molte volte, io penso che la fotografia abbia una relazione, diciamo così, culturale, più stretta, più profonda con la letteratura, di quanto probabilmente non ce l'abbia con la pittura, non che naturalmente non ce l'abbia con la pittura, poi tra l'altro parlando di Cate Bresson la relazione alla pittura è particolarmente importante. Ma nel senso che secondo me si capisce meglio nel definire un fotografo, nel cercare di capirlo, di collocarlo nel suo percorso e nel panorama culturale nel quale si è mosso, se noi lo apparentiamo a uno scrittore. Ci sono scrittori narratori, ci sono scrittori antropologi, ci sono scrittori di racconti, ci sono scrittori di poemi. Se voi guardate intorno e pensate alla letteratura, vi accorgerete che i poeti di solito pubblicano meno libri di quanto non ne pubblichino i romanzieri. I romanzieri spesso sviluppano la loro opera attraverso una quantità di storie, di volumi, eccetera. Invece il poeta è uno che distilla. Ora, se noi guardiamo, per esempio, ai libri di Sebastiano Salgado, noi lo possiamo apparentare con facilità ad un grande antropologo che scrive bene. Levi-Strauss è diventato Levi-Strauss e noi conosciamo la sua opera perché, oltre all'importante lavoro antropologico che ha fatto, lo ha comunicato attraverso una scrittura di grande qualità letteraria che lo ha posto a un livello più elevato. I libri dei fotografi, diciamo, narratori, ci sono per esempio libri che hanno una struttura di carattere narrativo. Forse l'unico libro che Cartier-Bresson ha fatto da narratore, da reporter, anche se poi praticamente lui lo ha praticato il fotogiornalismo, non fosse altro per seguire il consiglio che Robert Capay aveva dato all'inizio della fondazione di Magnum diceva stai attento perché tu hai un'etichetta di fotografo artista, di fotografo surrealista. Fai il fotoreporter o perlomeno di che fai il fotoreporter e fai quello che ti pare. E così ha fatto Cartier-Bresson. Ora, Cartier-Bresson è stato, tra l'altro, anche se ci è arrivato in maniera affascinantemente complessa a capire che avrebbe voluto fare il fotografo. Lui credeva di voler fare il pittore. Due cose sapeva. Che non voleva prendere il posto del padre nel dirigere l'industria tessile che a Cartier-Bresson è che avrebbe voluto fare il pittore. Non era un fulmine a scuola, anzi non lo era per niente a quanto pare. Però, giovanissimo, cominciò a frequentare le riunioni di André Breton del gruppo dei surrealisti a Parigi, insieme a Max Ernest, ad altri intellettuali che erano tutti ragazzi, insomma, senza arte né parte come lo era lui. Poi, per tante ragioni, se ne scappò in Africa, molto giovane. Pare che fosse per una storia sentimentale che non avrebbe potuto avere futuro. Comunque, visse in Africa per un paio d'anni facendo qualunque cosa, i lavori più umili, sopravvivendo appena. Perché una delle cose che ho sentito dire tante volte è che Cartier-Bresson era figlio di una ricca famiglia, quindi ha potuto fare quello che voleva. insomma, c'era Romeo Martinez, quelli che dicevano questa cosa, se erano fotografi, diceva penso che tu abbia ragione, io proprio pensavo a te l'altro giorno e pensavo se tu fossi stato ricco saresti stato uguale a Cartier-Bresson. Ora, naturalmente, le cose non stanno così. Cartier-Bresson era uno che è evaso tutta la vita, forse questo lo ha reso peculiare. La prima evasione è stata quella dal destino che la sua famiglia, la sua estrazione, gli aveva consegnato. Invece lui disse no. Disse no per ragioni di sensibilità sociale. Diceva che le operai che lavoravano nella fabbrica del padre avevano le cose che non gli piaceva. Aveva seguito una strada ribelle. Poi scappò anche da questo amore impossibile, andò in Africa per un periodo ha fatto il cacciatore. Era quello che gli era andato meglio, insomma. Vendeva la carne, andava la pelle. Poi si ammalò di un batterio che lo stava conducendo alla morte e del quale si salvò per miracolo. Grazie a un intruglio che gli aveva preparato un altro amico cacciatore e alle cure di una ragazza nella cui capanna ospite del padre lui viveva. Tanto che quando finalmente uscì fuori da questa cosa se la voleva sposare. Solo che il padre gli aveva chiesto, non lo so, credo, 30 cammelli come dote per la figlia. Lui non aveva i soldi per comprare questi 30 cammelli. Però aveva trovato una macchina fotografica, ma questo non fece scattare la sua vocazione. Poi a un certo punto, guarito, tornò a Parigi. Ricominciò questa sua vita di Bohemian alla ricerca di un destino artistico. Però dopo quel trauma, dopo anche quella scoperta dell'orrore del mondo, era un periodo in cui Gida aveva scritto Viaggio al Congo, cominciava a nascere, diciamo, nella cultura occidentale la sensibilità anticolonialista, antiimperialista. Lui riprese quella sua vita di quando era partito per l'Africa, però si accorse che non gli conveniva più, che non era di fatto davvero il pittore quello che voleva fare. Una volta mi ha detto sai, forse la cosa che ho scoperto è che, a parte che successe delle cose, poi questa macchina fotografica cominciò a usarla con una diversa consapevolezza. Avevo avuto questa rivelazione di un certo tipo di fotografia in cui l'istante poteva sorgere a sintesi formale e del significato di un fatto. In una foto famosa di Munkaci, che io avevo visto attaccata a casa sua, neanche in originale, riprodotta da un giornale, c'è tre bambini neri che entrano nell'acqua in un lago del Tanganyika e che compongono una struttura perfetta. E lui disse ma si può fare questo con la fotografia? Voglio farlo anch'io. Furono gli anni in cui veniva fuori la laica, questo oggetto che stava nel palmo di una mano. Era straordinario, si potevano fare delle immagini alzando questo oggetto all'occhio e schiacciando un bottone, stando attenti che l'istante in cui tu facevi questa cosa potesse avere un senso. Il senso del fatto è il senso della forma che pone in essere quel fatto. E poi dice in realtà, sai, avevo scoperto che fare il pittore è un lavoro, devi alzare la mattina, devi andare lì, devi comprare i colori. Non mi andava più. Quello che volevo fare è che in realtà non volevo lavorare. Ecco, ho scoperto per esempio che non volevo lavorare. Questa è una scoperta che quasi tutti i fotografi abbiamo fatto a un certo punto della nostra vita. Insomma, se avessimo voluto lavorare non avremmo fatto i fotografi. Il fatto è che poi in realtà lui lo ha fatto questo non lavoro da operaio per 50 anni, insomma, tutti i giorni con una laica con un 50 mm e uno zainetto dove c'erano 18 rulli, un'altra laica, un obiettivo da 90 mm e benché lo confenzasse a malincuore, anche uno da 35 mm ogni tanto per allargare il campo della visione. Dalla mattina fino a quando faceva buio e talvolta anche dopo, lui ha guardato il mondo cercando di coglierne degli istanti decisivi. Quindi era scappato dal suo destino sociale. Era scappato persino da quello che credeva essere la sua via di fuga, quella dell'artista, del pittore, eccetera. Decidendo di fare diventare questo incontro con il mondo nervoso, folgorante, il senso della sua vita. Un'altra evasione. Ce ne sono altre. Probabilmente la migliore definizione che si può dare di Cattepresson è l'uomo che è evaso, evaso dalla famiglia, evaso dal suo destino, evaso persino dalla sua illusione di diventare pittore. Poi nel 1936 lavorò molto durante la guerra di Spagna, impegnandosi soprattutto facendo dei film. A un certo punto tentò persino di evadere dalla fotografia. Poi ci è riuscito quando aveva 75 anni. insomma. Ma la guerra di Spagna, la resistenza, preso prigioniero dai tedeschi e messo in un campo di concentramento da ufficiale, non da sterminio, evase tre volte dal campo di concentramento. Al terzo riuscì dopo aver subito tutte le rappresaie le due volte precedenti che lo avevano preso. Dice ma non ci dovevi raccontare Cattepresson a troversi i suoi libri? Sì. Ci stiamo arrivando. Quando riuscì ad evadere dal campo di concentramento, siccome questa sua maniera nuova, innovativa di fare fotografie gli aveva dato presto una rinomanza internazionale, molto giovane, scoprì che al Museo di Arte Moderna di New York, avendolo considerato morto, perché era stato dato per morto, avevano organizzato di consacrargli una mostra postuma. Cosicché lui si ritrovò a partecipare all'allestimento della propria mostra postuma a New York. Quello che voi vedete qui è il catalogo di questa mostra postuma di Enrico Atti e Bresson al Museo di Arte Moderna di New York, un piccolo libro. dove c'erano queste fotografie che lui poi dice che si è portato dietro. Che succede? Perché non va avanti? Forse è qui. Aspetta, c'è qualcosa che non funziona. Vabbè. Vabbè comunque sono alcune di queste foto che sono là dentro. Perché vi ho fatto vedere subito questo libro. Si potrebbe dire che è il primo libro, anzi in un certo senso è il primo libro perché è del 1947. Ma io l'ho messo in testa perché è uno degli ultimi che io ho comprato tra i libri di Cartier-Bresson e qui interferisce la mia storia personale. Ricordo bene che a Parigi, sarà stato credo l'80, qualcosa del genere, a un certo punto ho trovato un libro che cercavo da tanto tempo e che non avevo trovato perché mi avevano detto che era raro e in effetti lo era abbastanza, però poi l'ho trovato. Ed era Le Danze a Bali. Queste sono ancora fotografie che illustrano il catalogo della mostra BOSS. Ma poi in realtà c'è stato questo libro su New York a cui lui ha dato, ma non si può considerare un vero libro di Cartier-Bresson. E quando ho trovato Danze a Bali, pubblicato a Delpir, le 54, l'ho invitato a casa, a colazione, ho detto a Rio, credo di avere completato la mia piccola collezione di tuoi libri. E dopo pranzo glielo ho messo lì sul tavolo per farvele firmare. E lui me le firmò così. Tra l'altro c'era anche questo di cui adesso parleremo, che è Ibagio La Sowette, che ha tutta una sua storia per rapporto a me e per rapporto a lui, che adesso cercherò di raccontarvi. Però disse, in effetti, te ne manca uno importante, che è il catalogo della mia mostra postuma di New York nel 1947. E lui dice, sai, non lo trovo, l'ho cercato, ma non si trova, non lo trovo, ero solo, non lo trovo. Poi passarono alcuni anni, io poi ero rientrato da Parigi, lui mi aveva chiesto di presentare la mia candidatura a Magnum. E avevo anche cominciato a fare delle fotografie di moda. Ed ero a Parigi perché si trattava di, stiamo parlando del 84, 85, no, di più, 87, 88 dopo. E eravamo a colazione con l'art director di Vogue Francia, Mary Shannon, un personaggio di una qualità assolutamente straordinaria che io avevo imparato ad apprezzare proprio collaborando con Vogue e che poi fu infatti chiamata da Richard Avedon a New York a botte da 20 mila dollari di stipendio al mese per occuparsi delle sue ultime mostre al Whitney Museum, della sua autobiografia, anche della mostra che fu fatta a Palazzo Reale di Milano. Si venne a parlare di Cattepresso e io gli raccontavo di questa mia cosa, avevo l'illusione di averli tutti i libri di Cattepresso, poi mi sono reso conto che non so quanti ce li abbiano tutti, eccetera. E io dicevo, ma sai, quello che mi manca, ho detto a questa Mary Shannon, che aveva un nome che assomigliava al mio, è il catalogo della mostra postuma di Anria al MoMA di New York. La cosa finì, io poi ho preso il treno e me ne tornai a Milano. L'indomani questa Mary Shannon mi ha telefonato e mi ha detto, quando ci siamo lasciati, io poi ho fatto una passeggiata, sono andato verso il teatro dell'Odeon, dove ci sono alcune librerie che io pure frequentavo molto, sono entrato in una libreria e in una scaffalatura ho visto un piccolo librino, l'ho tirato fuori ed era proprio il catalogo della mostra postuma di Cattepresso e te l'ho comprato. Quindi finalmente avevo, poi ne ho comprato un altro a New York, perché poi ho scoperto che a New York si trovava più facilmente che a Milano. E allora, alla prima volta che ci siamo visti a Parigi, l'ho portato da Harry emozionato, mi hanno detto, Harry l'ho trovato, eccolo qua, firmami anche questo. E lui era contento. Mi ha detto, sai che io ne ho una sola copia ed è la copia che mi è ritornata dopo la morte di mio padre in eredità, la copia che io avevo dedicato a mio padre. Quindi la copia che lui aveva era quella che aveva dedicato a suo padre e che era ritornata in eredità e me l'affermava con grande piacere. Insomma, questa storia dei libri, vi ricordate che io vi dicevo i libri di un poeta o i libri di un romanziere. Se noi pensiamo che ne so a Montale, Ossi di seppia, La bufera e altro, eccetera, sono delle raccolte di poemi la cui struttura proprio di oggetto libro, la cui natura letteraria sta proprio nel fatto che quel libro lì è una raccolta di poemi, ciascuno dei quali basta a se stesso, però insieme formano un libro. Ora, un romanziere può anche scrivere 40 romanzi, ma magari un poeta scrive 80 poemi in tutta la vita, no? E questi poi finiscono solo in tre libri. Comunque, sino al 1952, Cartier-Bresso non aveva ancora avuto il suo libro, il grande libro, che poi lo ha definito e che è diventato, almeno lo è diventato per me, diciamo come il Vangelo secondo San Giovanni della fotografia del XX secolo. E sto parlando di Images à la Soette, libro straordinario. Libro straordinario che fu concepito insieme a Cartier-Bresso. Mi domando persino se non sia stato forse più concepito da Theriad, dall'editore che era suo amico e guru che gli propose di fare questo libro. E qui nasce un altro inciso. Mentre io e altri fotografi abbiamo l'ossessione del libro, per cui io ho sempre pensato che una fotografia prende il suo senso quando finisce in un libro. È lì che prende il suo senso, sia per le relazioni che ha nella pagina con le altre foto, sia per la struttura narrativa, sia per le cose di questo genere. E quindi c'è sempre un problema di come trasformare questo sogno, questo punto di arrivo di un progetto che si dipana magari negli anni attraverso la pratica quotidiana della fotografia in un libro. Quindi la messa in pagina, le cose, la grandezza, la qualità della stampa. Tutte queste cose sono per me state sempre un problema ossessivo, sin dal primo libro sulle feste religiose che ho fatto quando avevo anche soltanto 21 anni. Mentre invece Cartier-Bresson, no. Cartier-Bresson, la sua cosa era il tiro, come diceva lui. La macchina fotografica è questo orgasmo improvviso di fronte alla realtà che prendeva un certo andamento, si disponeva in certe forme per il quale lui, come ogni fotografo che dopo di lui ha seguito le sue orbe, considerava che quello fosse l'istante giusto per schiacciare il bottone, sperando di cogliere questo istante che genera la forma e questa forma che produce il senso dell'istante. Quella era la cosa. Lì sì che ero ossessivo, lì sì che praticamente considerava che nessuno potesse scegliere le sue fotografie sulle stampe per contatto perché la scelta della fotografia di quella immagine tra tutte le altre, qualcuno, Pier de Fenoy, che è stato un archivista a Magnum e poi è diventato un... e poi è diventato anche responsabile della fotografia del Bonburg. Occupandosi molto delle stampe per contatto delle fotografie di Cartier-Bresson, diceva I contatti di Cartier-Bresson sono stupefacenti, perché tutte le fotografie sono buone. Io ho avuto molto a che fare con i contatti di Cartier-Bresson e non è vero. Ma non che non è vero che tutte le fotografie di Cartier-Bresson sono mediamente buone, solo che quando in una stampa per contatto c'è quella strepitosa, quella che noi abbiamo poi imparato attraverso il guardare e riguardare le sue immagini in questo libro e in tante altre occasioni di mostre e cose di questo genere, improvvisamente le altre impallidiscono. Se le avessi fatte io, quelle fotografie quasi buone, io le avrei considerate buone, ma quella che Cartier-Bresson circondava del segno rosso della scelta, improvvisamente faceva impallidire le altre. Una delle sue frasi era sempre «never second best», non c'è una seconda fotografia buona, c'è quella buona e c'è quella non buona. Se è una seconda vuol dire che non è buona. Un fanatismo, un fanatismo che era la sua ragione d'essere, espressiva, il fatto per esempio che le fotografie sue non potevano essere tagliate alla stampa, ce ne sono solo tre che sono state tagliate, anche perché una l'ha fatta con una macchina 912 tenendo la macchina alta, che è la famosa visita di Pacelli a Parigi, eccetera, eccetera. Ce ne sono due o tre. Quella del salto dell'uomo famosissima della pozzanghera, che è una specie di miracolo, perché con Cartier-Bresson uno ha l'impressione che non lui, ma la realtà, a un certo punto, scommettesse su se stessa e tentava l'impossibilità della perfezione. Cartier-Bresson passava da lì. era lì, in quel preciso momento. Ci sono stati addirittura ponderosi saggi che hanno parlato della fortuna di Cartier-Bresson. Si potrebbe dire, in definitiva, che se parliamo di fotografia, Cartier-Bresson è stato forse l'uomo più fortunato della storia della fotografia. Solo che quella fortuna lui l'aveva fatto diventare un bestiere, l'aveva fatto diventare una maniera di essere. Ci sono addirittura delle sue istruzioni agli stampatori siccome dovevano utilizzare il marginatore per stampare la fotografia in modo che non si mangiasse neanche un millimetro della struttura formale del fotogramma. Lui infatti poi faceva stampare le sue fotografie col bordo nero per segnalare che il bordo nero era il bordo che chiudeva il fotogramma perché lui aveva questa ossessione che un pochino mi ha passato ma insomma in maniera molto meno fanatica. la foto o l'hai vista o non l'hai vista o è lì lui diceva è praticamente impossibile o quasi impossibile che una fotografia cattiva possa diventare buona togliendogli un pezzo tagliandola in un modo o in un altro o l'hai vista o non l'hai vista. Quindi una pratica che è durata per anni prima di arrivare a questo libro che è del 1952 Cartier-Bresson questa disciplina che gli aveva già appunto provocato una mostra al Museo di Arte Moderna di New York che è una celebrità già universale l'aveva praticata per 25 anni e Terrianti gli propone di fare questo libro. Ora che cosa stava facendo Terrianti? in quegli anni lì io sostengo che Terriant stava inventando l'Europa dopo le due grandi catastrofi che avevano distrutto questo centro diciamo della cultura mondiale che erano stati i paesi europei dopo quella infame catastrofe che era costata centinaia centinaia di milioni di morti di uomini di stupidità di ferocia di distruzione del senso culturale stesso del vivere civile attraverso attraverso dei libri in cui insieme a questo qui di Cartier-Bresson Terriant pubblicava Matisse Paris Saint-Fant di Giacometti Chagall Picasso in libri che ridefinivano in un certo senso una certa maniera di considerare di pensare questo questo senso se ne ha uno che è quello dell'Europa a me è successo molte volte quando mi chiedono ma che cos'è per te l'Europa sapete se ne parla sempre ma questa Europa ha senso non ha senso si può parlare dell'Europa solo come di una comunità economica eccetera eccetera io dico sempre per me l'Europa è immagina la sovietica di Cartier-Bresson cioè questa questa maniera assolutamente esigente trasparente assoluta di mettere insieme la grande tradizione culturale figurativa dell'Occidente insieme alle esperienze spirituali dell'Oriente per farne una sfida alla morte alla volgarità all'orrore alla ferocia che aveva portato alla morte dell'Europa per cercare di salvarla tra l'altro questo libro Teriad lo concepì nel formato 24x36 che era quello del formato della laica in modo che il libro il libro è di una straordinaria semplicità perché praticamente le foto verticali riempiono una pagina con una piccola un piccolo margine bianco intorno le foto orizzontali o sono due mezze pagine che riempiono una pagina o sono delle doppie pagine io sono pronto a sfidare in duello il più grande spadaccino del mondo per difendere quei due due centimetri scarsi di margine che ci sono intorno alle fotografie dei Mangialasovetti mi sembra una specie di metafora della perfezione non sono tante fotografie però sono le fotografie che lui aveva distillato in 25 anni di questa intuizione che era diventata una pratica direi quasi zen anzi direi propriamente zen non per niente ho parlato di cultura figurativa occidentale coniugata con la grande avventura spirituale orientale che lo ha accompagnò per tutta la vita in una sorta di anche di rifiuto morale dell'arroganza dell'autore Cartier-Bresson è stato un buddista eretico anche come buddista insomma e lo è stato sin dagli anni trenta insomma quando quando ancora non era diventato una moda e dico che era eretico perché i buddisti non fanno proseliti però lui ogni tanto magari mi regalava un librino sul buddismo e mi interessa perché non c'è Dio quindi mi interessa che era poi la ragione per cui interessava soprattutto a lui ma la cosa per la quale soprattutto gli interessava è che era una visione del mondo che stava diciamo tra Spinoza e il suo panteismo l'appartenenza al tutto non c'è la morte nel buddismo ricordo che quando il povero Duanò suo grandissimo amico stava male negli ultimi anni diceva che cosa vuoi lui ha paura della morte lo diceva voglio dire poverino e ancora prigioniero di questi di questi limiti diciamo della cultura delle religioni monoteiste lui detestava questa cultura delle religioni monoteiste quella cattolica quella islamica quella ebraica perché diceva che davano soprattutto regole mentre invece la vita è il contrario della regola la vita è viverla una delle cose che diceva ma tu ti rendi conto tutte e tre sono ossessionate dal sesso cioè dalla cosa più normale più bella più spontanea più spontanea della vita e poi continuamente ti ricattano con la morte ma che morte la morte non esiste la morte non esiste è un ricongiungersi con la totalità che cosa vuol dire che io sono autore delle mie fotografie non esiste il fotografo non è autore delle fotografie è il mondo che attraverso di lui esprime la propria la propria bellezza la propria complessità la propria ricchezza eccetera quindi rifiuto anche evasione anche da una delle strutture fondamentali della cultura occidentale che è quella del io sono l'autore l'autore è la vita l'autore è il mondo e a un certo punto Terriade visto che appunto si trattava di mettere insieme in un libro una delle grandi avventure culturali del ventesimo secolo loro lo sapevano come quando mettevano insieme i libri di Giacometti di Chagall di Matisse eccetera ancora questo si stava facendo ma loro lo sapevano che quelli erano momenti della grande avventura culturale occidentale del ventesimo secolo allora gli disse devi scrivere un testo in cui tu racconti che cos'è per te la fotografia a rifigurarsi insomma con le sue collere con le sue nevroticità ma ma questa cosa che moltissimi fotografi dicono senza crederci non c'è bisogno di parole le foto basta da se stesse io quello so fare che cosa mi metto a scrivere non è roba per me e non era vero scriveva come un principe il signor Cartier-Bresson era figlio della della grande tradizione dei Saint-Simon di Stendhal così come era figlio della della dimensione musicale più alta dell'Europa Bach Bach soprattutto Mozart ma soprattutto Bach questa quintessenza della musica che quasi non ha autore è soltanto la geometria che si fa armonia che si fa bellezza che si fa comunicazione allora Terrià ha detto non dire stronzate adesso ha chiamato la segretaria e ha detto chiuditi in una stanza con Henry e fagli sputare il rospo sulla sua concessione della fotografia naturalmente Henry nicchiava ma poi parlò ma non soltanto parlò quando poi gli presentarono il testo che le sue parole avevano prodotto naturalmente ha detto vabbè ma allora se si tratta di scriverlo lo scrivo io perché appunto a quel punto lì quella parola quella definizione quella cosa diventavano importanti ed è lì che immagina la sovet diventa quest'altra cosa così determinante nella storia della fotografia contemporanea perché quel testo un breve testo nel quale Cartier-Bresson racconta esprime definisce la sua pratica di fotografo contiene tra le altre cose oltre ad una anche tentativa di definizione delle parti che compongono un reportage insomma fotografico perché la magnum era già nata quindi c'era già una idea che soprattutto era quella di capa che non si trattava più soltanto di esprimere se stessi come l'artista che Cartier-Bresson faceva sulla base dei discorsi di Breton e dei surrealisti l'azzardo obiettivo si trattava anche di raccontare delle storie perché si trattava di di venderle ai giornali quella era stata la grande invenzione di capa Seymour George Rogers e Cartier-Bresson che si concluse poi quel pomeriggio nella caffetteria del museo di arte modena di New York ma venivano tutti e quattro dalla terribile esperienza della guerra e anche da difficili rapporti con i giornali e dicevo ma perché noi dobbiamo continuare a lavorare per questi qui perché non fondiamo una nostra struttura e gli vendiamo soltanto il diritto di pubblicarla le foto in modo che le foto poi rimangano nostre di nostra proprietà era l'invenzione del diritto d'autore in fotografia anni prima che lo facessero diciamo notarilmente quelli dell'American Photographic Society quindi c'era già questo alle spalle Cartier-Bresson poteva anche già parlare di come si costruisce un reportage ma soprattutto aveva tirato fuori tirò fuori quella specie di definizione che poi ha qualcuno dice perseguitato io per quel che mi riguarda illuminato la strada di quattro generazioni di fotografico la fotografia è la simultanea ricognizione in una frazione di secondo di un fatto e delle forme che pongono in essere quel fatto non si poteva dire più limpidamente e poi ha aggiunto in maniera come dire ancora più luminosa e possibilmente terribile quel codicillo significa mettere sulla stessa linea di mira l'occhio la mente e il cuore in equilibrio facile a dirsi chiunque faccia il fotografo e chiunque ami la fotografia e guardi la fotografia fatta secondo questa questa pista sa che la cosa è molto più facile a dirsi che a farsi anche perché si tratta di equilibrio diceva spesso che la parola equilibrio era la più bella in tutte le lingue e equilibrio vuol dire gli occhi tanto quanto basta perché ci sia la forma la plastica nell'immagine la mente perché questo tanto quanto basta perché ci sia comprensione del fatto che tu hai di fronte che esprimi attraverso le forme che passano per l'occhio il cuore perché ci sia quanto basta di emozione perché quella forma e quella comprensione del mondo possa essere comunicata se ci sono troppi occhi se c'è troppo occhio la fotografia è formalista è estetizzata e non c'è niente di più inutile di una bella fotografia se c'è troppo se c'è troppo testa la fotografia diventa concettuale e manca la manca la forma forse manca l'emozione perché se non c'è il cuore manca l'emozione non basta la testa non basta la forma quindi queste tre cose insieme contemporaneamente è in equilibrio una specie di scommessa io per esempio me ne sono sempre molto servito non tanto per definire le fotografie di Cartier-Bresson che quelle si definivano per i fatti loro in definitiva quel libro non sarebbe stato lo stesso libro e non avrebbe avuto l'influenza che ha avuto come libro nella storia della fotografia se Teriad non avesse costretto Cartier-Bresson a scrivere quel testo perché quel testo ha dato il sangue teorico a quella pratica di fotografia nessuno ha scritto di Cartier-Bresson come Cartier-Bresson ha scritto delle proprie stesse fotografie indicando una strada poi naturalmente moltissimi hanno considerato che ma come lui che dice che le religioni monoteistiche impongono le regole e lui dice ma non ci siamo capiti queste non sono le regole che io ho detto a tutti quelli che vogliono fare fotografie queste sono le regole che io do a me stesso imperativamente per come io intendo fare la fotografia perché per essere libero continuava a ripetere bisogna comunque tu puoi essere libero soltanto se le regole te le scegli tu ma libero non significa fare quello che vuoi significa farlo all'interno delle regole che tu liberamente ti sei scelto ma le regole ci devono essere e devono essere quanto più rigorose ecco questa è la pagina che io molto vanitosamente vi sto facendo vedere perché non so se riuscite a leggere ma qui c'è una dedica che mi riguarda che dice a Ferdinando un probabile siciliano di concepzione bianca e norma amici Harry un probabile siciliano di concepimento benché normano perché io spesso gli dicevo Harry tu mi ami perché io sono il tuo più pedisseco imitatore no io ti amo perché sono siciliano come te e raccontava pretendeva che i suoi genitori che erano in viaggio di nozze nel sud dell'Italia presero il postale da Napoli verso Palermo in una notte di tempesta quindi arrivarono a Palermo stremati da questa da questa attraversata che durava solo una notte ma che proprio così e si rifugiarono nelle accoglienti stanze del lussuoso hotel Villa Igea di Palermo e per consolarsi ancora di più in quelle stanze concepirono il piccolo Harry e lui continuava a dire che la cosa importante è dove avviene l'atto di amore che ti ha fatto che ti ha fatto nascere non dove tu sei materialmente nato che poi era nato in Normandia nel 1908 quindi siciliano di concezione ecco perché c'era questa dedica e io di solito gli rispondevo che secondo me aveva ragione che lui era siciliano fatto e finito tanto è vero che i suoi amici erano meravigliosi ai nemici lo para così la pensava Harry per rapporto alle sue relazioni con il mondo per fortuna io dalla parte buona insomma perché non era facile il signor Harry Cartier-Bresson era era nei confronti del mondo altrettanto severo di quanto lui lo era con se stesso e lo era lo era nella prassi per esempio per dire lui non ha mai fatto pubblicità la considerava una prostituzione della fotografia non ha mai fatto non accettava premi che venissero da istituzioni statali perché non siamo mica impiegati al catastro diceva lui che se hai fatto bene il tuo lavoro ti danno un premio insomma aveva una debolezza per le lauree onore si causa insomma forse perché non si era mai laureato quindi credo che ne avesse raccattato una mezza dozzina però sai gliela davano a Oxford a Harvard anch'io le avrei accettate insomma diciamo la verità e poi era severissimo nei confronti della pratica della fotografia io ricordo una sfugliata con René con René Burry e con Claude Picasso l'uno che aveva accettato che una casa automobilistica utilizzasse il nome di suo padre per chiamare Picasso un'automobile e l'altro perché aveva dato una sua fotografia di Picasso per pubblicizzare questo dei putti delle puttane che vennero il proprio lavoro eccetera vi potete immaginare quanto potesse essere diciamo periglioso per quanto amicissimi fossimo diventati per esempio portargli da vedere le mie foto di moda io mi ricordo che la prima volta che gli portai da vedere delle foto di moda che io tra l'altro ebbi l'arroganza di presentare insieme alle fotografie del mio libro Cami come mio diciamo esame di ingresso tra i membri di Bagno che lui mandò una cartolina in cui c'era scritto attenzione punto esclamativo attenzione più grande due punti esclamativi attenzione ancora più grande con tre punti esclamativi e sotto c'era scritto lo fai troppo bene e diceva pericolo pericolo ti metti a fare le foto di moda finirai con fare la puttana della fotografia insomma ci ho detto ci ho detto quando quando io mi trovavo a casa sua e c'erano delle persone alle quali mi presentava che non conoscevano il mio lavoro eccetera lui andava in biblioteca e tirava fuori i miei libri e glieli faceva vedere e non censurava quelli di moda gli faceva vedere anche quelli no magari commentando diceva lui il feo si de la mode il la fe tre bian paretile pare che la faccia molto bene insomma e ma mi è capitato anche di essere a casa sua a cena e la moglie Martin Frank insomma grande fotografa pure lei aveva portato un'amica che ci teneva tanto a fare vedere le proprie foto a Cattie Brassone lui sedeva sempre per terra all'indiana allora era lì io ho visto che cominciavo a guardare queste fotografie e io sentivo arrivare il temporale insomma le foto passavano sempre più sverte io me le sono andate in cucina a cercare un bicchiere d'acqua di cui non avevo bisogno e a un certo punto lo sento urlare ma signorina ma con tutte le cose importanti che ci sono da fare nel mondo ci sono i bambini che muoiono di fame in Africa non può fare l'infermiera proprio la fotografia che non è cosa sua ed era un'amica della moglie figurati insomma con gli altri ecco qua questo è uno dei delle foto non lo so voglio dire sto cane come faceva ad essere lì nel momento giusto a stendersi in modo da creare questa bisettrice che fa dal rapporto col gesto del braccio eccetera eccetera è appunto il famoso necessario miracolo che Cartier-Bresson ci ha insegnato insegnato a a considerare naturale ecco poi lui si trovava quando è stata fondata Magnum Capa ha distribuito i pali di pesce ha detto Roger se ne vai in Africa tu te ne vai in Oriente io farò il battitore libero e quindi lui andò in Oriente lui tra l'altro considerava è stato il primo come l'ho sentito dire insomma che non c'erano più viaggiatori c'erano ormai solo turisti ma che un fotografo non può mai essere turista un fotografo deve vivere in un posto non può passare non è sempre facile poterlo fare insomma però lui ha vissuto a lungo in Messico ha vissuto a lungo in India eccetera e a un certo punto mentre era in India voleva fotografare Gandhi e lui si portava dietro il catalogo della sua mostra postuma al Boba come book lo mostrava a quelli cui chiedeva di fare delle fotografie diceva io sono signora ricattembreso faccio questa roba qui vorrei poterle fare delle fotografie e lui racconta che quando fu davanti a Gandhi Gandhi sfogliava questo libro a un certo punto forse ve la ricordate è passata velocemente ma tra le foto che io avevo riprodotto del catalogo del MoMA c'è una foto dello scrittore cattolico adesso c'è la mia solita botta di Alzheimer che segue un caro funebre allora Gandhi si fermò davanti a questa foto e gli ha chiesto cos'è questa roba qui che vuol dire e lui dice ah sai un grande scrittore francese cattolico stava andando a un funerale io l'ho fotografato in questo momento perché mi sembrava che avesse a che fare con la natura della sua scrittura e allora pare che Gandhi abbia chiuso gli occhi e ha detto ah la morte la morte la morte è chiuso il libro tre volte Cattempo e Sorra accattò il libro aveva fatto le sue foto e uscì e mezz'ora dopo sentì intorno a lui un grande clamore e le urla che dicevano hanno ammazzato Gandhi hanno ammazzato Gandhi mezz'ora dopo che lui aveva lasciato Gandhi l'attentatore aveva ucciso Gandhi e così lui si ritrovò davanti a un momento storico importante e fotografò il pandit Nero che celebrava il funerale di Gandhi di fronte ad un paese preso dal dolore e che era riuscito ad affrancarsi dal colonialismo inglese senza sparare un solo colpo di fucile queste sono altre fotografie da Images alla Sovette Images alla Sovette è un titolo meraviglioso perché cercavano il titolo diceva Cartier-Bresson e lui voleva un titolo basso con un understatement Images alla Sovette vuol dire istantanee prese alla svelta così senza importanza però siccome era troppo letterato in exergia al testo al proprio testo del libro mise una citazione del cardinale del Rez che diceva niente c'è al mondo che non abbia un istante decisivo questa storia dell'istante decisivo piacque moltissimo all'editore americano Simon L. Schuster che ne fece il titolo dell'edizione americana The Decisive Moment e a quel momento a quel punto lì The Decisive Moment più che un titolo diventò una specie di definizione per la fotografia di Catepresso il momento decisivo un'altra cosa che gli hanno molto riproverato perché mi ricordo anche Robert Frank a un certo punto polemicamente ha detto ma non esiste un solo momento decisivo tutti i momenti possono essere decisivi cosa che non aveva mai negato Catepresso la sua definizione di momento decisivo non riguardava la cosa non riguardava il momento nel quale riguardava il fatto che in quel momento il fotografo decideva di aprire per una frazione di secondo l'ottoratore per salvaguardarlo quel momento il momento decisivo era il momento in cui decisivamente il fotografo aveva incontrato un attimo del reale quindi non riguardava il reale riguardava lo sguardo del fotografo è il momento decisivo infatti ci può essere sempre anche in una cosa ferma anche in un paesaggio tanto di più in un ritratto insomma di cui lui diceva che bisognava cercare di cogliere l'istante di silenzio nel quale il ritrattato rivela la propria la propria natura c'erano tante fotografie tra cui questa famosissima delle prime vacanze pagate questa qui per esempio è una fotografia dalla quale io non lo so temo che non ce la faccio a finire ma comunque proviamo questa per esempio è una fotografia fondamentale che c'è in immagini alla sovetta ed è una fotografia che ha molto a che fare con la storia di Catepresso perché quando Catepresso riuscì a fuggire dal campo di concentramento la prima cosa che organizzarono insieme al suo amico Claude Roy era di fare un documentario sul ritorno dei prigionieri dai campi di Stato l'Eretour e molto spesso Cartier-Bressot era la cinepresa perché lui era molto affascinato dal cinema e fu l'assistente di Renoir faceva persino l'attore in certi film in certi film di Renoir ora lui raccontava che a un certo punto si trovarono a filmare questo momento in cui una capo veniva processata da una delle internate nel campo di sterminio che le rimproverava tutte le sue vessazioni e le sue servizi in un paradossale ribaltamento di ruoli vedete che dietro ci sono ancora quelli che hanno la divisa da internati ma a questo punto era lei che era la processata pare lei la vittima mentre era stata la guzzina ora Cartier-Bressot racconta che a un certo punto mentre firmava questa scena lui sentì che lì c'era un istante decisivo che c'era qualche cosa che doveva essere colto al di là del fatto che lui la stesse filmando allora chiamò il giovane assistente e gli ha detto continua tu che io devo fare le foto e lui mentre la scena continuava fece alcune fotografie tra cui questa in cui i rapporti formali oltre che psicologici gli incroci degli sguardi e tutto quanto rendono questa immagine un documento formidabile del passaggio epocale della fine della guerra allora Claude Rouen pare che dopo gli abbia detto ma che stupidaggine sicuramente la stessa scena l'avresti potuta ricavare dal negativo del film che tu stavi girando mentre lo giravi e Harry ha detto io non credo perché la fotografia è l'immagine in movimento sono due cose diverse proviamo e sono andati in Boviola e con Claude Rouen hanno rivisto tutto il filmato fotogramma per fotogramma non c'era nel filmato l'immagine che Cartier-Bresson aveva visto interrompendo il suo rapporto con il flusso dell'avvenimento per cercarne l'istante che lo definiva in maniera definitiva in termini fotografici questa è la fotografia se no non c'è bisogno della fotografia la fotografia per rapporto alla pittura è il fatto che Cezanne può dipingere le sue mela a memoria il fotografo no se non c'è la mela non le può dipingere e per rapporto al cinema la differenza sta nel fatto che una cosa è il movimento una cosa è l'estrazione del flusso di vita di un istante che ne sintetizza attraverso il rapporto tra l'occhio la mente e il cuore il significato della forma la copertina di Magia Lasovet era un papier coupé di Batiste in questa continuità diciamo culturale di cui vi parlavo prima di invenzione di un mondo estetico e formale ora mentre era in India ecco questo è invece il piccolo libro uscito nel 54 pubblicato da Delpir Le Danse a Bali lui si trovava a Bali e aveva fotografato queste manifestazioni di di danza che erano particolarmente importanti lì che ebbero una grande importanza anche nella sua vita perché poi lui sposò una ballerina giovanese Ratti che è rimasta sua moglie per tantissimi anni prima del divorzio e poi sposare Martin Frank questo piccolo librino pubblicato da da Delpir io l'ho cercato per tanto tempo ed è quello che io credevo che avesse concluso la mia collezione di libri di Cartier-Presson libro straordinariamente denso intenso in cui questi momenti di danza sono colti in tutto il loro significato sia plastico che rituale ma mentre era in India arriva la notizia che i soldati di Mao Zedong stanno per entrare a Pechino e che il governo di Chiang Kai-shek e Kuomintang sta per crollare allora chiedono a Cartier-Presson se non vuole andare in Cina e lui parte e arriva in Cina un giorno prima che arrivano questi soldati di Mao Zedong quindi lui assiste a a questo passaggio di cui noi ancora siamo al centro cioè il passaggio dalla Cina plurimillenaria alla Cina comunista insomma l'arrivo di Mao e lo fa facendo un vero e proprio reportage che ha avuto tra l'altro un destino giornalistico molto importante ma che poi è stato pubblicato anni dopo e cercavano un testo e a lui venne l'idea di chiederlo a Sartre e quello disse ma io non sono mai stato in Cina e pare che arrivi e abbia risposto vabbè neanche i preti sono sposati eppure sulle donne ne sanno quanto nessuno e Sartre accettò di scrivere il testo un testo che per me è diventato fondamentale è il primo libro di Gattier-Bresson che io ho comprato l'ho trovato su una baggarella a parelmo della libreria Cioni messo fuori sotto l'acqua e il sole insomma mi fece una grande impressione solo dopo ho capito che quello era forse il solo libro di reportage vero e proprio che Gattier-Bresson aveva fatto nella sua vita anche se poi quelle che noi ci ricordiamo soprattutto sono alcune foto che lo riassumono ma soprattutto c'è questo attacco straordinario del testo di Sartre che dice all'origine del pittoresco c'è la guerra e il rifiuto torna indietro che ti devo parlare è il rifiuto di comprendere il nemico di fatto le nostre conoscenze sull'Asia ci sono venuti tanto per cominciare da missionari irritati e da soldati più tardi sono arrivati i viaggiatori commercianti e turisti che sono dei militari raffreddati il saccheggio si chiama shopping e gli stupri si praticano a pagamento nelle boutique specializzate una straordinaria sintesi di quello che è il rapporto tra il mondo colonialista e i cosiddetti paesi del testo mondo ma il discorso che fa Sartre qui è uno straordinario omaggio a Cartier-Bresson perché a partire da questo discorso lui dice quando noi diciamo ah i cinesi il borghese francese diventa spiritoso sono tutti gialli hanno tutti gli occhi a mandorla è difficile distinguerli poi provate a mettergli davanti un ritratto di Mao Zedong è uno di Chu e Lai vediamo se se li confondono sono due persone completamente diverse e dice Sartre di questo dobbiamo essere assolutamente grati a Cartier-Bresson che si è rifiutato al pittoresco e ci ha fatto vedere i cinesi uno per uno come delle singole persone e a me poi ho capito quanto questa cosa mi avesse impressionato quando poi mi sono inferocito a proposito di quello che ho letto tante volte a partire dal luogo comune di Dublin sulle fotografie di August Sander dei ritratti di uomini del ventesimo secolo che dice che Sander cercava non la persona ma il tipo come se un fotografo potesse mai fare una cosa di questo genere non si possono fotografare i tipi provate a guardare voi delle fotografie di August Sander il muratore le cose di questo genere il pasticciere e pensate se potete mai confonderlo con qualunque altro muratore e pasticciere di qualunque momento o tempo città o cose di questo genere la fotografia lo ha detto definitivamente Roland Barthes si coniuga esclusivamente al singolare non esiste e fa paura anche soltanto a leggerla sotto certe fotografie di August Sander l'ebreo perseguitato non c'è una didascalia che possa definire ebreo perseguitato perché non esiste l'ebreo perché è come è come è come il famoso quadro di Magritte se si ne fasi un pipa questa non è una pipa perché non ci può neanche essere la fotografia di una pipa un fotografo può soltanto fotografare quella pipa che si trovava davanti a lui nel momento in cui lo ha fotografato non si può fotografare un tipo perché poi soltanto Hitler soltanto i folli e soltanto anche quelli che certe volte pur credendo di essere all'opposizione rischiano di pensare allo stesso modo possono pensare all'umanità come al fenomeno di un formicaio come diceva Dublin si pare che le formiche tra di loro si riconoscano perfettamente ma a che serve se io le guardo a livello di formicaio capisco come funziona il formicaio si ma quando poi sterminiamo con le cosiddette bombe intelligenti un formicaio umano muoiono una alla volta una Anna Franca alla volta non esiste il tipo che viene che viene assassinato ecco Cartier-Bresson è uno che ci ha insegnato questo e ce l'ha insegnato per esempio in questo straordinario libro che raccontando un passaggio epocale di carattere storico non indulge soltanto alla cronaca ma ci fa capire qual era la situazione storico economico culturale ma anche ancestrale di un paese che si trovava di fronte ad un grande cambiamento qui era una questione di coda per delle situazioni di economiche miserabili però questa è una fotografia che è rimasta nella nella storia contemporanea e questa è da una Cina all'altra pubblicata da Del PIR nel 54 nel 56 se non mi sbaglio esce l'European che apparentemente è una specie di gemello di immagini alla sovezza perché è nello stesso formato invece di avere la copertina disegnata da Matisse è una copertina disegnata da da Miró però quando uno chiedeva ad Arrimà cosa pensi tu dell'Eso European per rapporto a immagini alla sovetta lui dice cosa vuoi le foto dell'Eso European le ho fatte in 5 anni quelle di immagini alla sovetta le ho fatte in 25 non può essere la stessa cosa non ci può essere la stessa profondità non ci può essere la stessa esigenza la stessa forza di 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 selezione perché una delle cose per esempio che mi ha insegnato che mi ha insegnato Arrimà è che anche se lui non l'ha mai veramente definita così perché lui si affidava si affidava a Terriano si affidava a Delpiri si affidava a Maurice Corgià impaginatore suo amico eccetera lui soprattutto voleva avere l'ultima parola per quanto riguardava la scelta così come per le mostre si affidava a quelle che le installavano ma voleva avere l'ultima parola prima dell'inaugurazione della mostra stava quattro ore da sola in quelle sale e nel caso spostava due o tre foto perché corrispondessero a suo ritmo in tempo ma la cosa che vedendogli praticare il mistero della scelta perché le fotografie non sono solo un fotografo che le fa sono anche un fotografo che le sceglie e che dice never second best un grande libro di fotografia noi non lo sappiamo ma si definisce per le foto che non ci sono si definisce anche per le fotografie che l'autore non ci ha messo che ha avuto l'esigenza di rifiutare che ha avuto l'esigenza di considerare che non ci fosse una second best che quelle erano quelle che ci volevano e nessun'altra insomma poi naturalmente era diventato famoso eccetera gli davano anche la possibilità che ad altri non davano di fotografare dietro la cortina di ferro ha fotografato nei paesi comunisti e accettava anche accettava anche condizioni spesso capestro per esempio in Unione Sovietica gli hanno chiesto di vedere tutte le fotografie prima che lui se le portasse in Europa sviluppate ma lui l'accettava perché aveva la consapevolezza che un censore è stupido un censore non capisce niente un censore non può capire che quella fotografia di donne che ballano al circolo l'Enel raccontano l'Unione Sovietica anche se quelle sono operaie malamente vestite più che delle fotografie di denuncia a Riccardo non è mai stato un fotografo di denuncia è sempre stato un fotografo che narrava la complessità della realtà nella vita quotidiana e qualche volta finiva in un libro tanto poco lui era si sentiva diciamo implicato nei suoi libri sempre con l'eccezione di cui vi dicevo scelte cose di questo genere che per esempio accettò di fare un libro come questo qui vive la France pubblicato da Reader's Digest dove ci sono delle magnifiche fotografie ma che è un libro schifoso è un libro malimpaginato dove ci sono molte second best addirittura ha accettato di pubblicare un certo numero di fotografie a colore che fanno letteralmente schifo come lui stesso lui stesso riconosceva insomma questo per dire che sì poi poteva dire ho sbagliato avrei dovuto essere più controllato ma non era quello la cosa che gli interessava era fare le foto era uscire di casa con questa famosa laica 50 mm e i 18 rulli in saccoccia per vedere se Dio faceva capolino dietro l'angolo quello gli interessava e poi voglio dire di ambiguità ne abbiamo tutti lui diceva l'industria le cose così la pubblicità eccetera però questo libro l'ha fatta per l'IBM l'Obe e la machine l'ha fatto pagato dall'IBM io ogni tanto glielo dicevo io mica ho fatto le foto che loro hanno usato per la pubblicità loro sono stati editori di un libro in cui adagavo il rapporto tra l'uomo e la macchina scusa piuttosto trasparentuccia diciamo la verità insomma e poi vedete che per esempio da una cina all'altra non è uscita a ridosso dei fatti è uscita anni dopo non gli interessava sì le foto venivano pubblicate sui giornali Magnum cominciava cominciava a funzionare e cose di questo genere ma i suoi libri i suoi libri uscivano quando l'occasione lo lo permetteva non non ero ossessionato dal libro anzi la distanza dai fatti e dal momento in cui aveva fatto le foto gli pareva che fosse una 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 garanzia di serenità lui per esempio si difendeva a proposito di Vivi La France diceva l'ho fatto con troppa fretta avevo appena finito di fare le foto e già loro lo stavano mettendo in pagina non mi sono difeso abbastanza eccetera eccetera naturalmente aveva torto e riconosceva che aveva fatto una strozzata poi per esempio ci ho messo anche tra queste cose qui libri che non sono libri questa è una rivista varrebbe la pena di guardarla all'interno perché lui fece un reportage celeberrimo nel 1954 se non mi sbaglio per la rivista svizzera Du che era diretta a Manuel Gasser una meravigliosa rivista stupendamente impaginata e stampata che era un reportage quello sì un reportage ma reportage un reportage su Scanno sul Natale sui giorni di Natale nel paese abruzzese di Scanno un reportage che è fatto epoca che ha contribuito a trasformare Scanno in una specie di l'urde dei fotografi insomma perché dopo sette anni è successo che il più straordinario fotografo italiano del ventesimo secolo Mario Giacomelli anche lui abbia incrociato Scanno e la leggenda vuole che si sia buttato dall'automobile perché aveva visto arrivare sto ragazzino famoso in mezzo a quattro donne in quel paese paese lì non ci voleva molto di più per trasformare Scanno in una leggenda fotografica e kitsch turistica è l'unico paese al mondo dove c'è una lapide posta nel punto esatto da dove Cartier-Bressot ha fatto una celebre fotografia di di quel Natale a Scanno la lapide cita anche Mario Giacomelli però capisci adesso ci sono andati tutti a Scanno i grandi piccoli i medi ci arrivano con i pullman pieni di fotoamatori armati di macchine fotografiche nella speranza che come a Lourdes Scanno gli faccia il miracolo di una grande fotografia insomma io non ci volevo andare mi era venuta una specie di 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 idiosincrasia mi invitavano ma non ci volevo andare che ci vado a fare c'è già stato Cantipra e so gli dicevo a Gianni Berego che ci ha fatto un libro addirittura perché a lui gli piace misurarsi si è misurato col Strand e si è misurato anche con Scanno io Io gli citavo sempre che una volta mi sono trovato con Leonardo Sciaccia a Parigi davanti alla chiesa di San Rocco, in Rue Saint-Honoré, e Sciaccia mi ha detto, vedi quella chiesa lì, è quella di cui Manzoni racconta che fu là dentro che fu folgorato dalla fede. Io non lo sapevo, allora ho detto, andiamo Leonardo, entriamo, e lui mi ha detto, non si sa mai. E quindi io a Scannolo già andavo. Però ci volevo andare, allora dopo parecchi anni ho trovato l'alibi per smentire questo mio rifiuto, e ho detto, ci vado a fare un servizio di moda. Vado nel posto che è diventato uno dei posti del kitsch fotografico per farci, per usarlo come sfondo per un kitsch fotografico che è la moda. Naturalmente sono andato anche io su quel ballatoio di scala sotto la lapide, da qui Enrico Artie Bressone ha scattato la società di fotografia. E ho cercato di ripetere l'inquadratura. E ho avuto una soddisfazione straordinaria. Da quel punto lì, con 50 millimetri, quella foto non si può fare. Ci voleva il 35. Don Enrico ha cavato fuori il suo 35 dal tascapane e ha fatto la fotografia che ci voleva. E' bastata questa specie di piccola rivincita filologica di avere colto in castagna il mio maestro dei maestri per rendere felice il mio soggiorno a Scala. Poi naturalmente ci sono tutti i libri. Ecco, questa è la famosa foto. Ditemi voi, ci saranno sicuramente molti fotografi qua dentro. Se si può fare col 50 millimetri, non si può fare. Non si può fare. Del resto non è soltanto una questione di lunghezza focale. E' una questione di impossibilità che esista una cosa così armonica e così perfetta nella realtà del mondo. Questo è il mondo, è la realtà che a un certo punto ha sfidato l'impossibile e ha tentato la perfezione. Perché Cattie Bressone era lì. Allora ha detto, glielo voglio regalare a questo signore lì. Le due bambine che sono da un lato e dall'altro della ringhiera, questa qui che è nel punto esatto che si porta il pane sulla testa, il cane qui, uno, due, tre, quattro, tutte le donne là dietro, quella bambina bianca che esce dalla chiesa. Non è possibile. Non è possibile. Ecco, così come esistono le madonne dell'impossibile che vengono pregate quando non c'è più niente da fare, a me, io penso che i fotografi ogni tanto dovrebbero inginocchiarsi e invocare Cattie Bressone perché gli regali una foto come questa qui. Le abbiamo fotografate tutti, a quanto pare, perché una volta io pure ho fatto una foto delle gambe di Martin Frank, che meritavano, a dire la verità, della moglie di Henri, fotografa straordinaria, è una foto di straordinario erotismo, la mia è molto meno bella, ma ce n'è un'altra piuttosto bella anche di Kudelka, tant'è che Martina a un certo punto ha gridato che cosa hanno le due gambe con noi, più che altro. Questa qui non è un libro, è un fascicolo, ma io ci sono particolarmente affezionato perché fa parte di quella serie che in Italia ebbe una certa importanza culturale dei cosiddetti grandi fotografi, nomina-numina, diretta da Romeo Martinez, a quale io ho collaborato abbastanza. E questa fu la prima volta che Cattie Bressone raccolse un gruppo importante di suoi ritrati. E questo fascicolo è corredato di una mia intervista, la quale io tengo moltissimo, che è un'intervista in cui io lo interrogavo sul fare ritratti, dove lui diceva delle cose molto interessanti anche perché contraddivano molte delle cose sul fotografo invisibile, sull'istante colto alla sovete, eccetera, eccetera. Perché diceva appunto il ritratto no, il ritratto è signora, vorrei farle il ritratto. Posso venire? A che ora ci vediamo? Implica una relazione, un rapporto. Però, ne conosciamo tanti, insomma, ritratti di Cattie Bressone, di questo tipo. Tra i più celebri ci sono quelli dei coniugi Curie che erano famosi. e lui era pure famoso, aveva telefonato, ha detto vorrei venire a fare il ritratto. E arriva davanti alla porta e lui dice c'era scritto sul campanello entrate senza suonare. Ma io per educazione ho suonato. E questi sono venuti, erano in ansia evidentemente che doveva arrivare il grande fotografo a fargli il ritratto e sono andati tutti e due insieme alla porta, hanno aperto la porta ed erano tutti e due insieme con le mani giunte a guardarlo, emozionati. Qualcuno ha paragonato questa immagine a quella dei coniugi Arnolfini di Vaneghi. E lui che aveva sempre questa macchina appesa al polso, insomma, pronta all'uso, appena questi aprirono la porta e lì vi, tac, ha fatto la foto. Dopo sono entrato e ho fatto le altre foto, ma io lo sapevo che la foto era quella lì, la prima, l'avevo vista. A volte non era così, con Ezra Pound per esempio pare che fossero rimasti venti minuti l'uno di fronte all'altro, ciascuno dei due senza dire una parola e poi alla fine lui ha detto ce l'ho, ma era e c'era una serie di foto praticamente tutte simili le une alle altre insomma, ma per esempio lui diceva che non usava mai più di un rullo per fare un ritratto quando prendeva appuntamento 36 foto se non hai quella buona in 36 foto non l'avrai è inutile insistere e poi si crea disagio pare che non chiedesse mai si potrebbe spostare per favore che incontro luce che magari da questa finestra perché questo avrebbe turbato la spontaneità del rapporto semmai senza parere si muoveva in modo che gli altri andandogli indietro si mettessero in una in una luce migliore quindi il metodo era quello di non avere metodo fotografava faceva i ritratti nel luogo dove quelli lì vivevano dove li incontrava però poi da questo dialogo doveva scaturire un ennesimo istante decisivo questo famoso istante di silenzio e terrore da cui scaturiva da cui scaturiva la differenza tra un ritratto è una qualsiasi istantanea e questi questi sono la prima fu quella dei fratelli Fabri poi ci sono diverse altre edizioni in cui sono state pubblicate da Gallimard da altri editori questa per esempio quando quando avevo appena pubblicato un po' mi vergogno ma non tanto in realtà io sono un esibizionista schifoso perché parlo anche dei fatti miei forse sto parlando più dei fatti miei che di quelli di Cattepresson ma comunque quando è uscito questo libro di ritratti pubblicato da Gallimard io ero a cena da lui a Parigi e poi a un certo punto a una certa ora dovevo andare a prendere il treno alla Gare de Lyon e allora ha detto me ne vado ho saluto tutti me ne vado allora ha risi alzato e ha detto aspetta aspetta ti do il libro allora ha tirato fuori questo libro e non trovava la penna e allora bisogna avere conosciuto Harry per cosa poteva significare se tu cerchi una penna devi farla dedico a un amico e non trovi la penna allora urlava in questa casa non si trova più una penna è uno schifo eccetera eccetera e allora nell'ansia di questa dedica che mi doveva fare ha preso un tampone ha preso un tampone da timbri gli ha messo su il dito pollice e mi ha messo l'impronta digitale a forma a modi dedica sul libro dopo finalmente gli hanno portato sta penna allora intorno all'impronta digitale mi ha mi ha fatto la dedica una foto pur la polis perché c'era l'impronta digitale appunto a Ferdinandino avec tutt buona affezione libertaire libertaire questo è molto importante veramente orgogliosamente posso dire che la dedica a Ferdinandino e a Sefotò e alle sue alle sue fotografie beh poi ci sono le grandi collezioni classiche eccetera eccetera e poi c'è questo libro che ha avuto una grande importanza insomma nella creazione dell'immaginario intorno a Cartier-Bresson che è un libro di Peter Galassi che fu direttore del museo d'arte moderna di New York il quale fece uno studio molto colto e molto sofisticatamente documentato in cui parlava di early work del 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 lavoro dei primi anni di Cartier-Bresson ora la teoria di fondo che io non condivido per niente era che Cartier-Bresson le grandi fotografie le aveva fatte fino al 38 e che dopo non aveva fatto che ripetere se stesso io non sono d'accordo però questa questa storia di Peter Galassi ha circolato morto nelle cose naturalmente sono uscite in vari paesi collezioni più o meno grandi di sue fotografie fotografie sull'America sulle cose eccetera in alcune sono stato coinvolto anche con con prefazione o post fazioni eccetera eccetera ma qui per esempio il Messico l'ha pubblicato Motta negli anni credo 70 se non mi sbaglio no 80 80 è un libro importantissimo dove lui ha il Messico lui ha vissuto difilato due anni e poi ci è ritornato eccetera e poi eppure l'unico libro organico sul Messico di Cattipresson è questo qui poi naturalmente c'è Parigi Avulè Avulè che è qui altra dedica che mi riguarda che dice Avudè oppure forse Avvista di Naso a Odore a Ferdinando Chieto Parfum che vuol dire che se ne intende il suo amico e copilota Henri e questa dedica io l'ho messa perché volevo dire a proposito del raccontare Cattipresson attraverso i sei libri di come lui abbia fatto persino nelle dediche persino nella maniera di fare la sua firma una specie di racconto del autobiografico della sua natura culturale lui ha incominciato firmandosi Cartier perché Cartier Bressot voleva dire tessili segna marzotto cose di questo genere lui non voleva essere confuso con i soldi di famiglia la leggenda volo almeno lui la raccontava che a 13 anni lui aveva trovato un articolo di un giornale che aveva attaccato nella sua stanza con una puntina di disegno il cui titolo era da dove arriva il denaro e a papà non era affatto piaciuta questa affichage insomma quindi cominciato con firmarsi Cartier dopo in certe occasioni per esempio in questa dedica Henri diventa un rite che vuol dire ne ride il suo nome diventa una una specie di autoaggettivazione di carattere psicologico poi Cartier Bresson spesso diventava Henri Cabret Cabret non Cartier Bresson diminuito Cabret vuol dire incazzato sostanzialmente per cui ne ride incazzato in molte in molte dediche si poteva leggere sino a quella che io poi ho ricevuto con una guardate quest'altra quest'altra qui ma porca miseria non è la fotografia di Cartier Bresson che io preferisco anche se l'hanno menata tantissimo con l'istante decisivo col salto esatto eccetera eccetera ma va bene magari lui ha detto questo qui è lì se vuole passare dall'altro lato deve saltare ma lo aspetto e lo becco va bene lo ha beccato ma lui l'aveva visto io glielo ho chiesto non l'aveva visto che sulla palizzata lì in fondo c'era un manifesto di una ballerina che saltava non l'aveva visto non lo poteva vedere perché questa è la fotografia che ci ha insegnato Cartier Bresson una forma sciamanica quasi medianica in cui non è soltanto quello che vedi che determina la necessità assoluta della struttura formale e del significato di un'immagine ma anche quello che non vedi che tu ricevi attraverso l'incosciente della retina diciamo così per cui tu stai fotografando quest'uomo che salta questo momento è decisivo ma là dietro c'è il manifesto di una ballerina da circo che sta saltando come salta quello qua davanti va beh insomma è come a Scanno che le due tipe si mettono lì qui alla rigliera quella passa col pane e cos'altro insomma ci vuole soltanto Dio che ti fa così con il naso insomma un'esagerazione non bisogna esagerare poi a un certo punto Cartier-Bresson compie la sua penultima evasione perché l'ultima è stata quella di morire in maniera calma il gran nervoso insomma il buddismo gli è servito in questo insomma ed è che a un certo punto il corpo altre considerazioni quando già aveva 76 anni e da oltre 50 anni era l'occhio del secolo il più famoso fotografo della storia della fotografia eccetera eccetera lui dice ma devo continuare ma non è forse finita e allora si consulta con il suo guru con il suo amico Teriad e gli dice ma tu che dici io avrei una certa tentazione di lasciar perdere e Teriad gli dice secondo me fai bene quello che avevi da dire in fotografia lo hai detto non volevi fare pittore quando eri un ragazzo riprendi il discorso e Cartier-Bresson smette di fare le fotografie allora ogni tanto succede che mi chiedano che chiedano eccetera e ci sono poi quelli che sembrano essere così felici di poter dire a me si è messo a disegnare però vuoi mettere le sue fotografie in fondo questi suoi disegni sono della roba vecchia sono delle cagate eccetera quando chiedono a me io non dico affatto questo io trovo che questa sua evasione questo suo rimettersi in discussione a 76 anni per vent'anni di fila sia una grande lezione etica cioè questo qui ha ricominciato come quando andava all'atelier di Andre Lott a imparare a disegnare da capo andando tutte le mattine all'Uvra a copiare i quadri a copiare dal vero al museo della scienza con la modella che gli veniva in studio come un ragazzino e facendo vedere questi disegni tutti i giorni ma questo tutti i giorni per anni per anni per anni agli suoi amici pittori che lo redarguivano come un allievo adolescente gli dicevano ah no va bene così eccetera cioè si è rimesso in discussione anche da un punto di vista etico tecnico prima di fare vedere in giro i suoi disegni ha fatto passare qualcosa come 10-12 anni insomma per autorispetto di sé naturalmente le prime volte che gli mostravano i suoi disegni lo facevano insieme alle fotografie come nel caso di quello che abbiamo visto pen brush and camera la penna il pennello e la macchina fotografica dopo avevo messo questo questo librino che io sono stato quello che ne ha provocato la pubblicazione presso il mio amico Franco Cerdelli perché avevo concepito una serie di piccoli libri di ritratti complessi in cui si raccontava la relazione di un fotografo con una personalità della cultura non casuale di un rapporto lungo durato negli anni e approfondito e sicuramente uno dei più approfonditi era quello di Cattembre So con il suo amico e guru Giacometti che lui adorava e le cui fotografie sono in un certo senso delle delle analisi critiche dell'arte di Giacometti come pochi ne hanno potuto scrivere e fare qui a stampa in Svizzera con la madre riraccontava che Giacometti era così ossessivo quando disegnava dipingeva eccetera che non riusciva mai a mollare un quadro un disegno per cui la mamma ogni tanto scendeva gli portava il tè e poi prima di andare via gli diceva Alberto il quadro è finito allora Alberto lo tirava giù dal cavalletto e non se ne parlava più e già in questa fotografia c'è già tutto questo racconto oppure guardate questa roba qui rudalesia sta piovendo questo qui si mette l'impermeabile sopra e cammina come una sua statua insomma che avrebbe probabilmente scolpito anni dopo eccetera cioè il suo rapporto con col mondo col mondo dell'arte che era quello della sua gioventù di quando lui voleva fare pittore lui lo riprende con i suoi discorsi su Matisse su Bonnard su Giacometti soprattutto ma anche su Avigdor Libni su altri amici suoi pittori eccetera e poi altre cose che riguardano un'altra un'altra componente importante a proposto di libri io vi ho detto che lui non è mai stato mi diceva ho votato comunista per vent'anni perché il mondo era talmente ingiusto che mi sembrava giusto votare comunista sinché poi non mi hanno fatto girare le balle anche loro ma non è stato un fotografo militante cioè non ha mai lo avrebbe considerato un mettere il cuore troppo alto nella trea di occhio la mente il cuore se l'avesse utilizzato in maniera funzionalmente ideologica lui ha fatto una fotografia ideologica ha fatto una fotografia umanistica nella quale la sofferenza dell'uomo la sua gioia la bellezza e l'orrore del mondo erano tutte negli istanti che ne riassumevano la complessità non voleva dimostrare niente mostrava il suo rapporto umano con quelle cose lì ci ho detto è sempre stato disponibile a mettere le sue fotografie a disposizione di strutture militanti soprattutto anarchiche e militanti di sinistra per cui ci sono un certo numero di libri di Gattier Bressot che lo definiscono come questo qui per la libertà di stampa fatto per il reporter San Frontier che per un altro futuro per i suoi amici anarchici eccetera ecco nel parlare dei libri di Gattier Bressot bisogna parlare anche di questi libri in cui lui ha dato le sue fotografie non ha fatto delle foto anarchiche perché le sue foto erano tutte anarchiche non ha fatto delle foto militanti perché le sue foto erano tutte militanti però le ha date anche gratuitamente alle persone che si battevano per un certo numero di cose poi per esempio l'ultimo suo libro da vivo è questo qui De Quasagittil che è una domanda buddista di che si tratta e lui me l'ha me l'ha dedicato e firmato come vi avevo raccontato cabre che vuol dire incazzato ma le dediche che lui batteva c'è qui una foto in cui io alla fondazione Catebresson mentre le firmava e ve la voglio fare vedere però prima voglio parlare di questo libro al quale naturalmente sono straordinariamente affezionato perché quando è stata fondata la fondazione Catebresson a Montparnasse la fondazione è stata inaugurata da una mostra che si chiamava L'Echois d'Henri Catebresson in cui venivano messe in mostra 80 fotografie che Catebresson aveva scelto tra quelle che più amava tra i suoi colleghi fotografi che spesso erano state il frutto di scambi ci sono tra questi 80 fotografi ci siamo degli italiani io Berengo Gardin e Francesco Zizzo ed è per noi uno straordinario orgoglio è una mia fotografia delle feste religiose bambino che tirano su che una volta arriva e ha detto facciamo un cambio questa fotografia ma non lo so e ho detto sì io e tu che mi dai mi dai che cosa un fazzoletto da naso in cambio di una mia fotografia alla pari una foto contro una foto ora questo libro qui in realtà non è un libro è un libro che è stato pubblicato poi nel 2007 che avrebbe dovuto essere mostrato prima addirittura del 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 catalogo postumo della mostra del MoMA perché è stato trasformato il libro il catalogo della prima mostra di Catebrezone preso la galleria Giuliale V a New York nel 1935 che si chiamava Documentary and Antigraphic Photograph una cosa bizzorra alla quale Giuliale V diceva che mostrava tre fotografi che facevano una specie di antifotografia visto che la fotografia che si faceva allora era di tipo totalmente pittorialista e queste tre fotografi erano niente di meno che Henri Cartier-Bresson Walker Evans e Manuel Alvarez Bravo tutte e tre insieme in questa galleria nel 1935 i tre giganti diciamo della fotografia del novecento ed è molto interessante che ne abbiano abbiano recuperato questo catalogo con i testi che ci sono dentro perché c'è per esempio una lettera di uno che si felicita con Julian Levy che dice complimenti per aver mostrato le fotografie brutaliste di Henri Cartier-Bresson brutaliste se voi pensate che poi per decenni lo hanno accusato di essere un formalista di uno che trasformava il mondo in strutture di carattere formale addirittura quando queste fotografie cominciarono ad essere fatte tanto stridevano e tanto erano contraddittorie che quello che si faceva che c'era la gente che le poteva addirittura definire brutaliste quindi qui siamo nel 1935 quella mostra ha avuto molta importanza per l'affermarsi della popolarità di cartier-Bresson negli Stati Uniti da quella e da altre cose probabilmente come dal suo soggiorno in Messico e dall'amicizia con Walker Evans nacquero poi altre cose come la mostra al MoMA e qui ci sono scritti cartoline cose e alcune per esempio queste sono due fotografie di Alvarez Bravo che erano riprodotte in quel catalogo e poi ci sono queste due di Cartier-Bresson tra cui quella famosissima in un bordello di Alicante e queste due di Walker Evans che facevano parte del gruppo poi ci sono tante cose insomma che so per esempio questo libro in cui lui raccoglieva alcune fotografie perché lui ha frequentato molto l'Italia ha fotografato molto a Roma nel sud eccetera e a un certo punto è stato fatto un libro che raccoglieva le sue fotografie romane guardate questa qui insomma che cuoricurri e va a finire lì proprio in mezzo a quel cadrato di luce dove gli serviva a lui e poi dice che non aveva culo certo che aveva culo ecco qua un silenzio interiore che era appunto la definizione di cateteria e questa qui è una roba che ha molto a che fare con una mia vergogna e un mio rimorso questo è lo scrapbook io quando andavo a Parigi andavo quando ero a Parigi andavo a dormire quando non avevo più casa a Parigi andavo a dormire nel vecchio studio di Cattepresson che era quello dove lui adesso andava a disegnare prima era in Fonburg e Santonore ed era al settimo piano scomodissimo tra l'altro con la cucina tutta dipinta di nero che mi aveva spiegato lavoro dipinta di nero quando con Robert Capa stappavano le prime fotografie dell'agenzia della Magnum prima che avessero i soldi per portarli in un laboratorio insomma quindi per me era meraviglioso dormire in questa manzarda dove c'era persino il nero della pittura della cucina mi faceva partecipare al mito della fotografia dopo lo hanno demolito quel polazzo e in cambio gli hanno dato uno studio molto più comodo dalle parti del settimo arrondissement e io dormivo lì e naturalmente curiosavo intorno a me libri cose eccetera e c'era un libro che non era un libro era un album perché Cattemesso non ha mai stampato foto nella sua vita forse solo quelle nella cucina dipinta di nero della sua manzarda di Fuburghi sentonore però quando seppe che a New York stavano preparando la sua mostra a posto allora si diede da fare per fare tutta una serie di stamp delle sue fotografie che gli interessavano di più e l'aveva messa insieme in un album che era questo famoso Scrapebook che lui poi si era portato in America che era servito che poi aveva arricchito negli anni ed erano probabilmente le solo foto che Harry avesse stabbato lui con le sue manine ed erano attaccate lì in questo album come le foto famose dell'articolo nei suoi album della della bell'epoca e io sfogliavo sta cosa dove c'erano delle annotazioni piccole stampine 6-9 9-12 e dice io me lo rubo una di queste di queste volte che vengo a dormire qui me lo metto sotto il braccio e me lo porto via mi sembrava una cosa era come se avessi scoperto la tomba di Tutankhamo nella piramide nella piramide per fortuna non me lo sono mai portato via insomma dopodiché invece poi questo è diventato un libro ne hanno fatto una copia anastatica lo potete trovare in circolazione così era ditemi voi se la tentazione non era fortissima di portarselo via tutte piccole foto di Cartier-Bresson stampate incollate in questo scrapbook alla meno peggio con annotazioni varie lì eccetera una meraviglia va bene e tante altre cose e in conclusione quella che vi dicevo essere la maniera con cui lui dedicava quel libro il cui titolo era The Quasagittil e lui nelle dediche rispondeva di niente assolutamente il vuoto assoluto risposta assolutamente buddista insomma negatrice dell'io prevaricatore e questo libro lui me l'aveva già dato solo che poi una volta andando a Parigi ne trovai un'altra copia a Magnum che era impacchettata per me e aprendola e questo mi diede una specie di fitta al cuore la firma questa volta era Henri Cartier Presson cioè Henri Cartier sbrighiamoci era arrivato alla fine della sua vita e la sua firma da Henri ha incazzato era diventato Henri Cartier sbrighiamoci e poi se ne è andato non ci sono potuto andare al suo funerale la sua figlia Melanimi ha raccontato che durante il funerale c'è stata una vera e propria tempesta di tuoni e lampi che sembrava che le cateratte del cielo si fossero aperte e io mi sono ricordato di quando lui mi aveva raccontato che in India dove frequentava l'ashram di un suo maestro una volta tornando da una passeggiata aveva visto una palla di fuoco che attraversava il cielo e cadeva sull'ashram e allora lui capì che il suo maestro era morto non gli ho mai chiesto se lui credeva a questa cosa oppure no ma quando Melanimi ha fatto il racconto di quella tempesta di tuoni e di lampi a me è sembrato di essere lì e che avrei capito che il mio maestro era morto grazie grazie per la pazienza ringraziamo Ferdinando Scianna di questa veramente straordinaria serata non c'è altro da dire grazie ancora di avermi dato l'opportunità più che altro di di pagare un'infinitesima parte dei miei infiniti debiti nei confronti di questo gigante che ha illuminato la mia vita grazie grazie grazie